Ehi, guarda quell'aereo che sta per partire da un'Afghanistan Sembra la macchina del tempo che sulle poche ore vi trasporterà Lontano, verso il passato, fino a mille anni fa Sembra un film di fantascienza, ma non è sicuro che ti piacerà Sembra il nostro medioevo, ma non è finzione Questa è la realtà Questa è l'alba del 2000 In Afghanistan Non ho reggimento di soldati italiani Nell'inferno di Kabul Strumento di attrazione, missione di pace Cos'è? Leggi di notte Tu che cerchi ogni sera nuove emozioni Nello show, nel telegiornale O tu che metti in scena La rivoluzione nel piattino di un centro sociale Ehi, guarda quei ragazzi Ben equipaggiati Che stanno per andare E altri Ben addestrati A recitare slogan Per farli ritornare Chi è? Che ha in mano i fini Che li fa ballare Non ho reggimento di soldati italiani Nell'inferno di Kabul Strumento di attrazione O missione di pace Cos'è? Leggi di notte Tu che cerchi ogni sera nuove emozioni Nello show, nel telegiornale O tu che metti in scena La rivoluzione nel piattino di un centro sociale Non ho reggimento di soldati italiani Nell'inferno di Kabul Strumento di attrazione O missione di pace Cos'è? Decidi notte Tu che dai 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 Chiari spiegati C'era confuseri Che cosa sta a fare Non vedi che colpa O di chi ideale Coglio il disco Di farsi ammazzare Coglio il disco Di farsi ammazzare Di farsi ammazzare Coglio il disco Coglio il disco